Il 27 maggio del 1993 la mafia colpì duramente la nostra città sventrando l'Accademia dei Gergofili danneggiando seriamente le gallerie degli uffizi. Non siamo certo immuni dalla criminalità organizzata dopo 27 anni in special modo in questo periodo di crisi economica da coronavirus. Per questo è necessario essere più che mai attenti, più che mai scrupolosi affinché negli appalti soprattutto non ci sia il rischio che siano le mafie ad aggiudicarsi i lavori. Va in questo senso il protocollo di legalità firmato in Palazzo Medici Riccardi tra il prefetto Laura Lega, il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt e il rettore dell'Università degli Studi di Firenze Luigi Dei. Basti pensare che noi abbiamo un piano di inizio triennale da circa 110 milioni di euro quindi capite che si tratta di appalti pubblici di entità cospicua, ci sono tanti soldi che girano perché ci saranno questi investimenti che ci auguriamo siano profili e fruttuosi. È importante tenere altissima l'asticella per il controllo della legalità. Ecco noi siamo impegnati in prima fila e facciamo ogni accortezza, ogni misura e ben vengano anche protocolli di questo genere che ci aiutano comunque a stare sempre vigili.